Noi abbiamo circa 350 famiglie sfollate a causa del terremoto, dei tre terremoti del 2016 e del 2017. Abbiamo numeri crescenti a Teramo città per cui possiamo parlare di 550 realtà familiari. A queste realtà familiari la soluzione potrebbe essere o quella delle soluzioni di emergenza abitativa che comunque richiede una procedura, un costo amministrativo, un costo di suolo, circa il consumo del suolo e magari dopo un costo di gestione successiva e magari anche un costo di smaltimento successivo. L'alternativa che abbiamo concepito come Presidenti di Regione con Errani e Palazzo Chigi è di fare in modo di evitare il più possibile le casette e di riusare le case oggi in esistenza che non sono in esercizio di proprietà o delle famiglie o di imprese che hanno già realizzato nel corso degli anni precedenti queste realtà abitative all'interno delle quali possono trovare ricovero le famiglie sfollate. È una maniera per non consumare il suolo, per essere rapidi, per non mettere in pratica nuove procedure realizzative come sarebbe nel caso delle casette e poi di acquisire al patrimonio pubblico durevole, stanziale, queste case che vengono acquisite e che vanno nel patrimonio consolidato di Ater anche per bisogni lontani futuri di ulteriore ricovero abitativo per esempio per i bisognosi. È una misura lodevole che pone in campo a favore dell'Abruzzo per i 23 comuni terremotati 500-550 possibilità di rimettere in circuito case già esistenti ma non in uso e poi vale circa 50-55 milioni di euro. Io sono molto contento di questa possibilità che ci è fornita dalla legge, che ci è garantita da una nostra delibera, da un nostro bando e come si sceglie quale casa verrà offerta a seguito di bando attraverso una comparazione con i costi delle singole unità. Ci sarà una comparazione che prediligge il costo più basso naturalmente a parità di certezza di idoneità del titolo giuridico edificatorio, cioè le case devono essere legittime e poi ci sarà anche una stima che verrà anche affidata all'Agenzia delle Entrate e da ultimo un ultimo controllo speditivo del Dipartimento della Protezione Cile nazionale. Credo che si tratti proprio della lode. Dopo la misura sulle zone franche, fiscali e contributive, quest'altra misura straordinaria che per quanto mi riguarda parla di lode.